La diversità e bellezza. All'Istituto Leonoraduse di Bari questa mattina si è svolta una lezione di vita, quella che parte dal racconto di chi ha lasciato la propria terra per cercare fortuna in un paese nuovo, superando anche le avversità del mar Mediterraneo. Edgar Ciani, arrivato nel porto di Bari dall'Albania un anno prima del grande approdo della Vlora, viene raccontato nel docufilm Edgar Ciani da rifugiato politico a calciatore professionista, prodotto da 100% eventi di Marco Iusco con la regia di Tess La Pedota. Per la prima volta il lavoro viene proiettato all'interno delle scuole. Dopo il grande successo nelle sale cinematografiche di Bari, il percorso di conoscenza e diffusione dei valori di umanità di questo grande calciatore inizierà il suo cammino all'interno degli istituti scolastici della città. È un percorso che prosegue sulla base di due parole chiave, integrazione e accoglienza. Quando ho deciso di realizzare questo film come 100% eventi, ho scelto che ci devono essere questi due concetti. Questo ringrazio il preside Gerardo Marchitelli, è il primo istituto che ospita questa realizzazione, questa piccola opera, un cortometraggio, e sono contento di poter lanciare questo messaggio agli studenti di questo istituto. Un grande insegnamento di vita, quello raccontato, un'occasione per parlare di integrazione in una società sempre più multietnica. La cosa che voglio far comprendere ai miei alunni è che siamo diversi. Nel momento in cui si va a notare le varie differenze perché c'è del male, non c'è voglia di includere l'altro nella propria vita, nei propri rapporti, nella propria esistenza. E questo è veramente qualcosa che fa male.